Ben a tutti ragazzi con Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Potential Transfer di FIFA 16 come sempre abbiamo tre giocatori legati alla Serie A perché ho fatto un episodio diciamo molto legato alla Serie A ovviamente nei prossimi episodi tratterò anche qualche giocatore di campionati esteri perché comunque è anche interessante vedere calcio mercato degli altri campionati comunque sia come sempre vi invito a lasciare un bel like, 300 mi piace o anche 400 se riusciamo ad arrivarci per far uscire un nuovo episodio come sempre scrivetemi nei commenti qualche trasferimento da trattare nei successivi episodi comunque direi di partire subito senza perderci troppo in chiacchiere con il primo giocatore di oggi cioè Ben a Tia perché come sappiamo Ben a Tia non ha disputato una grandissima stagione al Bayern Monaco complice un po' anche agli infortuni si parla di un possibile trasferimento alla Juventus del marocchino ex Roma che potrebbe quindi tornare in Italia ripeto dopo una stagione non bellissima però comunque si ha fatto una discreta stagione segnando anche forse un paio di gol adesso non mi ricordo e appunto si parla di un possibile interessamento della Juventus perché c'è stato un infortunio di Barzagli, c'è stato anche un ultimo infortunio di Chiellini quindi serve magari un centrale di difesa anche visto l'addio di Ogbonna che è andato all'West Ham quindi un centrale di difesa servirebbe alla Juventus e appunto Ben a Tia potrebbe essere la scelta principale altrimenti poi vabbè si vedrà in ogni caso c'è stato anche un rinnovo di Rugani fino al 2020 per la carta, anzi intanto parliamo del prezzo il Bayern Monaco chiede tipo 25 milioni visto che comunque l'aveva pagato tanto dalla Roma quindi è normale che chieda una cifra molto alta, comunque è il difensore molto forte non ho voluto effettuare un downgrade per Ben a Tia perché secondo me non se lo merita è una carta giusta questa qui che, sì, gli ho downgradato un po' le varie statistiche però secondo me è una carta giusta, una carta che lo rispecchia molto a questo giocatore e vedremo se si trasferirà poi in Serie A poi andiamo con un altro giocatore che potrebbe tornare in Italia cioè Crescito che secondo le ultime voci potrebbe approdare nell'Inter di Mancini che come sappiamo sta cercando un terzino di sinistra e quindi Crescito potrebbe essere un'idea anche se c'è da dire che lo Zenit ha già fissato il prezzo a circa 15 milioni di euro che è una cifra abbastanza alta però c'è da considerare che Crescito arriva da una buona stagione con lo Zenit ha fatto tante partite, ha sempre giocato si può dire e anche ha fatto diversi gol e diversi assist e da qui ne deriva l'upgrade che gli ho voluto dare perché secondo me se lo merita addirittura di due e comunque con delle ottime statistiche nel caso arrivassi in Serie A serve davvero un terzino interessante per la Serie A per le varie squadre comunque che si possono fare su FIFA Ultimate Team appunto detto il prezzo è un po' alto forse si potrà trattare adesso non so di solito lo Zenit è una squadra con cui non è facilissimo trattare per i giocatori comunque in futuro si vedrà mi sono dimenticato di dire che la grafica delle nuove carte come vedete è quella nuova è quella che dovrebbe essere di tra virgolette ufficiale la grafica è stata fatta da SPAC il mio grafico in descrizione trovate il link se volete chiedere qualche lavoro a lui che è il miglior grafico secondo me di YouTube Italia prezzi ovviamente contenuti comunque grande qualità e dopo questa piccola parentesi pubblicitaria andiamo con l'ultimo giocatore di oggi è un trasferimento che è quasi ufficiale non è ancora proprio ufficiale quello di Salah che dopo la grande telenovela che abbiamo notato questa estate con la Fiorentina potrebbe trasferirsi alla Roma anzi lui in realtà ha già effettuato le visite mediche alla Roma manca soltanto penso il transfero ufficiale comunque sia Salah sarà un giocatore della Roma che arriva prestito con obbligo di riscatto se non sbaglio in tutto fissato a 23 milioni cioè 3 di bonus più 20 di riscatto una cosa del genere ho voluto trattare Salah per parlare un po' della situazione in Roma più che altro perché la Roma ha Dumbia come attaccante come punta in uscita Totti vabbè che è una seconda punta e destro che non si sa è un oggetto del mistero ma ha una marea e dico una marea di esterni barra ali e io adesso non so cosa se ne farà la Roma di tutti questi attaccanti esterni per citarne alcuni a Ibarbo è tornato Marchigno a Florenzi che può fare l'ala a Liaic ai Turbe Ibarbo l'ho già detto ha ancora Gervigno che non si sa se verrà ceduto o meno e quindi e inoltre ha preso anche Iago Falche altro secondo me altra operazione di mercato un po' strana qui non trovo grandi spiegazioni comunque sia c'è da dire che Salah ha un ottimo rinforzo ha dimostrato di essere un ottimo giocatore in quelle partite della Fiorentina soprattutto le prime poi è andato un po' calando ma comunque sia è un ottimo giocatore bisognerà vedere se poi riuscirà a prendere Dzeko o comunque sia un centravanti degno del suo nome perché è proprio quello di cui la Roma in realtà ha proprio bisogno in questo mercato di estivo comunque raga come sempre vi invito a lasciare un bel like spero che appunto questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel 300 barra 400 like vediamo se riusciamo ad arrivare appunto a 400 come ho detto prima scrivetemi nei commenti innanzitutto se vi è piaciuto il video e poi qualche consiglio su transfer da trattare nei prossimi episodi news di mercato che avete sentito che avete letto che avete visto eccetera eccetera vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga grazie a tutti i minuti